Io sono Giovanni Chesic e sono il direttore del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di San Michele all'Adige. Questo festival è una cosa meravigliosa, è una grandissima occasione per Verona, è bellissimo e evidentemente quando un'idea funziona, quando un'idea è quella giusta, si vede subito perché i fatti parlano da sé, è una bellissima occasione anche di contatto internazionale perché il gioco evidentemente non ha frontiere e quindi è una cosa fantastica. Io volevo aggiungere, noi siamo naturalmente molto contenti di essere qui, di partecipare, cercheremo di partecipare sempre di più e sempre meglio, volevo aggiungere forse una riflessione che è questa, quando noi avevamo bambini l'infanzia è una specie di malattia da cui bisognava guarire presto e il gioco era un vizio, adesso siamo in un mondo che ha completamente capovolto questo genere di valori, l'infanzia è qualcosa di molto tutelato, di riverito, è il contrario della malattia, della specie di malattia sociale che era una volta e al gioco vengono assegnati una serie di valori che sono tutti positivi. io così mi chiedo un po' da antropologo qual è la chiave di un ribaltamento così completo di prospettiva e questo obiettivamente mi fa un po' riflettere e credo che debba fare riflettere un po' tutti anche nell'atmosfera ludica, giocosa, meravigliosa di questi giorni. grazie 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 grazie